Berlino 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 ministro Binalil Dirim ha comunicato la volontà di risarcire Mosca per l'abbattimento del Su-24, augurandosi che il gesto favorisca la normalizzazione dei rapporti tra i due paesi, per poi ritrattare la proposta stamani, 28 giugno. In ogni caso, la Russia sicuramente ha gradito le scuse ufficiali di Erdogan, tanto che su iniziativa di Mosca è prevista per mercoledì 29 giugno una conversazione telefonica tra Vladimir Putin e Recep Erdogan. La Russia da vincitrice è pronta a ristabilire normali relazioni, ma i nodi da sciogliere sono seri. In primis, le contraddizioni tra i due paesi nell'ambito del conflitto siriano, dove Ankara continua a garantire il proprio appoggio ai terroristi nemici della Russia, oltre al prezzo economico che la Turchia sta già pagando. Prosegue la destabilizzazione politica in Libano. Nella serata di ieri, lunedì 27 giugno, circa 15 persone sono rimaste ferite in attentati terroristici, uno dei quali è avvenuto davanti alla chiesa dove si stavano per celebrare i funerali delle cinque vittime degli attentati suicidi avvenuti nella mattinata a Ka'a, villaggio cristiano vicino al confine con la Siria. Il movimento sciita libanese Hezbollah ha annullato una cerimonia prevista oggi a Beirut. Ieri Hezbollah ha condannato gli attacchi terroristici e ne ha attribuito la paternità a Daesh. Il partito di Dio che ha mandato i suoi miliziani a combattere in Siria ha puntato ancora una volta il dito contro i paesi che offrono sostegno ai tagliagole, in primis Arabia Saudita, Turchia e Qatar. Grazie a tutti.